Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i capigruppo per le parole, le espressioni di stima, di apprezzamento che avete avuto per il mio Paese. Per me sono espressioni molto importanti. Devo dire che mi hanno sorpreso, mi hanno commosso. Quindi grazie ancora. Voglio ringraziare ovviamente la Presidente del Parlamento europeo per questa occasione, questa opportunità di incontro che per me è la prima da quando ho lasciato la BCE. Quindi sono tre anni che non avevo occasione di parlare e di scambiare opinioni e vedute con il Parlamento europeo. Due o tre punti specifici prima di arrivare a quella che è, secondo me, una condivisione degli obiettivi, delle finalità della nostra visione europea. Due o tre punti specifici. L'Italia sarà a favore dell'embargo su tutte le energie fossili. Questo, come ho detto nel discorso, abbiamo appoggiato le sanzioni che l'Unione europea ha deciso di imporre nei confronti della Russia, anche quelle nel settore energetico e continueremo a farlo con la stessa convinzione in futuro. Quindi bisogna darsi da fare, però non basta appoggiare soltanto le sanzioni. Bisogna darsi da fare per diventare indipendenti dal gas russo. Noi l'abbiamo fatto, lo continueremo a fare. Ci siamo mossi con notevole rapidità per diversificare le nostre fonti di approvvigionamento e per accelerare gli investimenti nelle rinnovabili con un ritmo che non era previsto l'anno scorso. Anche i provvedimenti di ieri presi dal Governo portano a una liberalizzazione dei processi, delle autorizzazioni per l'installazione di fonti rinnovabili. Perché questo è l'unico ostacolo oggi presente in Italia, ma credo anche in molti Paesi europei. Sono i processi autorizzativi per le installazioni di fonti rinnovabili. Credo abbiamo fatto un passo avanti molto notevole ieri per quanto riguarda l'Italia. Imprese che hanno fatto profitti e famiglie povere. Non c'è alcun dubbio. Imprese che hanno operato nel settore elettrico e nell'importazione delle energie fossili hanno fatto profitti incredibili. Pensate soltanto alla Norvegia, i cui profitti poco tempo fa erano stati stimati 150 miliardi di dollari per un Paese di 5 milioni di abitanti. Altrettanto sta succedendo per le imprese italiane e degli altri Paesi che hanno importato energie fossili. Il nostro Governo ieri ha deciso di rinnovare la tassazione su questi extra profitti delle imprese che hanno importato prodotto anche energie di diverso tipo. La tassazione complessiva ora ha raggiunto il 25% di questa definizione di extra profitti che il Governo ha dato. In sostanza si tratta di un ammontare complessivo di circa 11 miliardi tra il primo provvedimento e il secondo provvedimento e così siamo riusciti a dare un assegno flat, un assegno uguale per tutti, di 200 euro a 28 milioni di persone, a coloro che tra i 28 milioni di persone, cioè pensionati e lavoratori dipendenti, guadagnano poco. Tutti coloro che sono nella fascia più bassa o nelle fasce più basse, cioè che guadagnano fino a 35 mila euro l'anno, otterranno questo assegno uguale per tutti. Quindi è una misura fortemente progressiva ovviamente che premia molto le fasce più basse di reddito e che compensa in parte, in alcuni casi in gran parte, per la perdita di potere d'acquisto che queste famiglie hanno avuto a causa dell'inflazione. Vedete, questo è un modo di poter utilizzare, di poter aiutare le famiglie più povere senza necessariamente, come dire, minare la solidità del bilancio pubblico. Questo è molto importante per noi, perché come sapete il nostro bilancio occorre particolare cura. Secondo punto sul clima. Questo governo, quando è nato, è nato come, mi ricordo il discorso in Parlamento, come un governo ecologico. Quindi fa del clima, della transizione verde e anche della transizione digitale il pilastro portante. In questo senso devo dire che il nostro ministro dell'Ambiente è stato straordinario. Ha fatto quello che difficilmente poteva essere immaginato anche un anno e mezzo fa. Ha fatto provvedimenti straordinari. Possiamo non essere d'accordo sul super bonus del 110% e non siamo d'accordo sulla validità di questo provvedimento. Cito soltanto un esempio. Il costo di efficientamento è più che triplicato grazie ai provvedimenti del 110%. I prezzi delle materie prime, non delle materie prime, i prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% di per sé toglie l'incentivo alla trattativa sul prezzo. E quindi questo è il risultato. In ogni caso le cose vanno avanti in Parlamento, il governo ha fatto quello che poteva fare e il nostro ministro è molto bravo. Terzo, modifiche nel PNRR. Allora, qui bisogna intendersi. Prima di tutto, il primo problema sul PNRR è assicurarsi che i cantieri dei lavori pubblici, delle opere, restino aperti e si aprano quelli delle nuove gare. A questo fine, ieri il governo ha stanziato inizialmente 3 miliardi per permettere alle imprese di recuperare il 90% dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Questo provvedimento è stato accolto con gran favore, naturalmente, non solo dalle industrie che producono queste infrastrutture, che partecipano ai lavori pubblici, ma in generale da tutti. Quindi questa è la strada che abbiamo scelto. Quindi, prima di parlare di modifiche del PNRR, facciamolo funzionare. Non è vecchio il PNRR. Grazie. Non è per niente vecchio. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi, continueremo a farlo ora a fine giugno, lo faremo anche il 30 dicembre, che è vecchio. Non è vecchio. Quindi, ci sono dei punti. Se è necessario modificare certe cose in alcuni punti, in alcuni settori, investimenti specifici, però. Non si parli di rivoluzioni del PNRR. Ci sono degli investimenti che forse verranno modificati, per i quali bisognerà intervenire appositamente. Questo è una... volevo dire questo. Insomma, queste sono le tre cose specifiche che volevo dire. Ma veniamo un po' alla... come dire... alla visione complessiva di questo scambio. Io credo che questo scambio sia caratterizzato da una profonda condivisione. Condivisione di visioni, di progetti, di ideali. Le sfide dell'Unione sono molte, abbiamo visto. La prima di tutte condivido quello che ha detto probabilmente l'ultima capogruppo, anzi non è una capogruppo, credo. Non lo so. Che ha detto che la sfida più importante è la pace. Questo è indubbiamente l'obiettivo principale verso cui si deve muovere l'Unione europea, verso cui si muove questo governo, il mio governo. Ma ve ne sono molte altre. E su tutte la risposta è l'integrazione è la nostra migliore alleata. Su tutte. Ho parlato di federalismo pragmatico. Che significa? Significa che per tante di queste sfide l'unico modo è affrontarle insieme. Affrontarle insieme non significa soltanto finanziarle insieme. Perché voi pensate, io sono un banchiere e quindi penso sempre a quello. Ma non è questo. Affrontarle insieme significa disegnarle insieme. Significa sorvegliarle insieme. Significa assicurarsi che i soldi siano ben spesi tutti insieme. E di questo l'Italia è profondamente consapevole e si sente, come sapete bene, perché l'ho detto tante volte è molto responsabile della buona spesa di questi fondi che sono stati assegnati per il Next Generation. Ma altrettanto lo sarà per quello che si vorrà decidere sul fronte energetico, sul fronte degli investimenti pubblici, sul fronte della transizione verde, del digitale. Sono delle sfide che sono di proporzioni. Voi sapete che sono stati fatti dei conti per quanto riguarda la transizione verde e la transizione digitale, per cui il bisogno da qua al 2030, il fabbisogno finanziario per l'intera Unione Europea è di circa 2 trilioni di euro. Quindi non sono cifre che si possono affrontare con i bilanci nazionali. Per quanto riguarda la difesa, poi abbiamo due obiettivi. Uno è l'autonomia strategica per ciò che riguarda la difesa. Abbiamo detto tante volte che una difesa, un'Europa forte, significa anche una Nato forte. Ma per l'autonomia strategica, ho detto nel discorso e lo ripeto, il primo passo è quello di rendere la nostra spesa militare più efficiente. Ripeto, tre volte la spesa della Russia non è pensabile che si possa fare alcunché finché non si rende più efficiente, più coordinata la spesa militare. Per questo ho richiamato la possibilità di avere una conferenza su questo obiettivo. Condivido la necessità, e questa è l'esperienza di questi ultimi anni, la necessità di arrivare a un'autonomia anche per certe produzioni cruciali per il nostro continente. Quindi, per esempio, i microprocessori è un tipo di cose, ma ci sono altre produzioni che sono cruciali nelle catene di produzione che effettivamente si dimostrano essenziali e per i quali si dimostra essenziale l'autonomia strategica. La guerra, ma anche prima, gli ultimi eventi hanno dimostrato che il mercato, le catene di produzione non funzionano fluidamente sempre e la loro interruzione può creare crisi profonde. Quindi dobbiamo anche attrezzarci per questo. Questo è, dicevo, il federalismo programmatico, ma insisto su un'altra cosa, su quello che ho chiamato il federalismo ideale. In questo momento i nostri valori sono sottoposti a sfide che non hanno conosciuto da quando è stata costituita l'Unione Europea. Di fronte a queste sfide dobbiamo essere uniti. È lì che si vede, in un certo senso, il federalismo ideale. La capacità di arrivare a risposte che sono unite pur essendo noi profondamente diversi per storia, tradizioni, condizioni di partenza. Quindi è lì la difficoltà vera, in un certo senso, che dobbiamo superare e dobbiamo riuscire a superarla per aver successo come Europa. fa. E finalmente questo, come ho detto prima, se ciò, e credo che sia necessario, che lo renderà necessario, se ciò porterà a un inizio di un percorso per la revisione dei trattati, percorriamolo con coraggio e con fiducia. Grazie.